E' bella nostra Italia, eh? Guarda che costa, guarda. L'Italia è sempre l'Italia. Ce l'abbiamo anche fatta, eh? Cioè? Facciamoci i complimenti, forse. Che è successo, Presidente? Siamo il primo paese corrotto al mondo. Nelle statistiche, eh. È un successone. Primo paese al mondo corrotto. Eh, un momento, Presidente. Io sapevo che noi eravamo il secondo paese più corrotto al mondo. Eravamo il secondo. Abbiamo pagato e siamo diventati il primo. Molto vado. Eh, questione di professionalità. No, no, noi non ci speravamo.